Dopo la lunga sosta legata alle festività e alla recrudescenza della pandemia, il calcio dilettantistico abruzzese riprende gradualmente le proprie attività e a scendere per prima in campo sono le formazioni del torneo regionale di eccellenza. Il Casalbordino alla spasmodica ricerca della quadratura del cerchio ha operato un poderoso restyling nello staff tecnico e nell'organico della prima squadra per cercare di porre rimedio ad una classifica tutt'altro che l'usinghiera, ma non ha vissuto un buon periodo neanche durante la pausa per motivi ahimè extra calcistici e nella giornata odierna si trova a piangere due personaggi legati in qualche modo al sodalizio giallorosso. In ordine cronologico si ricorda la scomparsa del signor Antonietti, papà di Carlo, responsabile della comunicazione del team giallorosso e Nicola Galante, grande sostenitore del Casalbordino scomparso prematuramente nei giorni scorsi, al quale sarà intitolato l'impianto di gioco cittadino ricordato ad inizio gara con un minuto di raccoglimento. Le prime battute di gioco non saranno particolarmente esaltanti con il Delfino Curi Pescara avversario odierno che scende in campo con atteggiamento pragmatico e mette per primo in difficoltà la retroguardia giallorossa, dapprima con lo stacco in area di Pastorini che costringe l'Alic ad inarcarsi per alzare la sfera sopra i legni della sua porta e successivamente con Gobbo Carrer che prova a pungere dal vertice d'area, ma stavolta l'Alic non deve disperarsi più di tanto per abbrancare la sfera con relativa tranquillità. I casalesi del neomister Di Simone si affacciano in area ospite al minuto 19, anche se il contatto tra Paolilli e Moschini non viene ritenuto sanzionabile dal direttore di gara. Il quasi impronunciabile Ieukvumer della sezione aquilana. Il primo intervento significativo di calore si registra al ventesimo quando deve intervenire sul primo palo per azzerare il temibile diagonale in area di Salghiero. Nelle fasi successive la moviola è chiamata in causa in altre due occasioni e in entrambi i casi per episodi accaduti in area pescarese. Nel primo caso i padroni di casa protestano per un contatto tra il solito Paolilli e Giannone, ma anche stavolta il fischietto aquilano fa proseguire. Stessa soluzione adottata al ventiseiesimo sul nuovo incontro ravvicinato che stavolta vede come protagonisti il pescarese Pastorini e il giallo rossanzic. In questo frangente il 4 di casa riceve anche il cartellino giallo per simulazione. Nella fase calante del primo atto la truppa del patron Santoro cerca di intensificare le proprie iniziative in zona d'attacco e prima dell'intervallo si rende pericolosa in due distinte occasioni. Nel primo caso siamo al quarantunesimo, Salghiero prova una rasoiata dal limite che sibila pericolosamente oltre il secondo palo. Successivamente Grandi si chiude un'azione insistente dalle parti di calore calciando sul fondo da buona posizione. Al riavvio dei giochi il numero 10 giallorosso è protagonista di un nuovo tentativo dal medesimo epilogo che fa comunque presagire un atteggiamento più propositivo della squadra di casa. Si tratta in realtà di un falso allarme e anzi al tredicesimo arriva anche la doccia fredda rappresentata dal vantaggio dei pescaresi autografato da Paolilli, protagonista di un perfetto stacco in area che sfrutta al meglio un tiro dalla bandierina e infila l'alice non irreprensibile in questa occasione sul primo palo. La gara diventa estremamente spezzettata e questo rende ancor più problematico ogni tentativo di rimonta del Casalbordino pericoloso al quindicesimo con il tentativo dell'avanzato della penna che mette in vetrina il superlativo riflesso dall'estremo ospite decisivo per preservare il suo personale clean sheet. Calore preserva ulteriormente il risultato intercettando un velenoso tentativo di Annone a ridosso della linea di porta che rappresenta il classico canto del cigno per le legittime aspirazioni della truppa casalese che anzi rischia di soccombere ulteriormente in pieno recupero ma il neoentrato Sciamanda evita ai giallorossi una sconfitta più pesante. A fine gara con il Casalbordino che prosegue nel suo silenzio stampa l'unico che arriva ai nostri microfoni è il tecnico ospite Guglielmo Bonati